Partiti! In vantaggio a centropista Shining Diamond con all'interno Fuerteventura, poi Nuro Privato per linee interne Nabida e Camprom, quindi in seconda linea seguono Buschalem e Beautiful Fast. Siamo a metà gara con all'interno Camprom a largo Fuerteventura e Shining Diamond, quindi Tic D'Oso, i quattro in linea davanti a Shining Diamond, quindi Nabida per linee interne cerca il barco Beautiful Fast. Siamo a 200 dal palo con Buschalem che attacca Tignoso, i due sono in lotta inseguiti all'interno da Fuerteventura e Beautiful Fast. Nel finale è passato a Buschalem, attaccato all'interno a Beautiful Fast. Sul palo Buschalem, su Beautiful Fast, poi in linea per il terzo posto Fuerteventura e Nabida. Andiamo a rivedere le immagini con Samuele Diana all'attesa e con Buschalem che nel finale hanno preso il sopravvento nei confronti di Beautiful Fast numero due e al terzo posto il sette di Fuerteventura, quindi 3-2-7, il probabile e ufficioso arrivo della seconda di Napoli. Grazie. 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 Grazie.